Oltre 8 chili di marijuana e 30 mila euro in contanti nascosti in un camper è ciò che hanno trovato gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone, coadiuvati dall'unità cinofila della polizia locale, durante una perquisizione in un'autofficina della città. Si erano recati lì in realtà per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del titolare, un 41enne italiano indagato per spaccio. Essendo sul posto hanno effettuato anche una perquisizione e al sostanzioso ritrovamento dentro il camper hanno proceduto direttamente all'arresto in flagranza. Il titolare della carrozzeria è stato quindi portato in carcere. La droga all'interno del camper, parcheggiato nel piazzale dell'autofficina, era suddivisa in 17 involucri e i 30 mila euro, probabile provento di spaccio, erano di varie taglie. Nella stessa giornata la squadra mobile è arrestato anche un 51enne pregiudicato residente a Sacile, trovati in casa sua 24 grammi di cocaina e tutta la strumentazione per confezionarla.